ma davvero viene un euro a letto i fagiolini un euro a letto fa 10 euro al chilo costa più della carne e come mai raccolto a mano non sono mai arrivati 10 euro al chilo più della carne ma io faccio il contadino io dovessi comprare io li mangio perchè sono miei non mangio carne ma non perchè sono vegetarati mi piace ma mi sa che mangio solo fagiolini perchè chi li compra ah li compra? mezzo chilo prima ah io li avrei comprati ma per me sono due mezzo chilo me ne ha preso una signora adesso no no ma per me io li comprerei per me le mie tasche non va bene mi dispiace signora